Salve a tutti signori e ben ritrovati qui su Pausa Caffè edizione live. Notizia sconcertante signori e dir poco veramente per questo epilogo di questa storia lunghissima di Patrick Zaki che viene adesso condannato signori a ben tre anni di carcere in Egitto dove, apriamo una piccola parentesi, dovrà scontare solamente, scusate la parola, 14 mesi. Amnesty dice che questo è il peggiore degli scenari ed effettivamente dopo tutto questo tempo di rinvii udienze contro udienze si è arrivati a questo epilogo veramente brutto 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 per il nostro Paese. Patrick Zaki è stato condannato a tre anni, lo ha riferito a Lanza uno dei quattro legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto. Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno. La legale principale di Zaki ha annunciato ricorso. Chiederemo al governatore militare di annullare la sentenza o di far rifare il processo come è avvenuto nel caso di Ahmed Samir Santawi, ha detto Oda Nasrallah parlando a Lanza davanti al palazzo di giustizia di Mansura dove si è pronunciato il giudice monocratico di una corte per la sicurezza dello Stato. Uno della sicurezza è venuto e ci ha detto solamente il tre anni, poi hanno preso Zaki e lo hanno fatto uscire da una porta, ha riferito l'avvocato Azzem Salah. Calcolando la custodia cautelare già scontata, si tratta di un anno e due mesi di carcere, lo ha detto Al-Ansa Azzem Salah, uno degli avvocati di Patrick Zaki, riferendosi alla condanna a tre anni pronunciata oggi dopo che il ricercatore egiziano ha passato 22 mesi in custodia cautelare in prigione fino al dicembre 2021. Il peggiore degli scenari possibili. Patrick Zaki condannato a tre anni. Lo scrive sui suoi profili social il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Nuri. Il caso giudiziario del 32enne Patrick era iniziato con il fermo del 7 febbraio 2020, con formalizzazione dell'arresto il giorno dopo, e dura da tre anni e mezzo, di cui 22 mesi passati in carcere. L'accusa di diffusione di notizie false dentro e fuori il paese si basa su un articolo che scrisse nel 2019 su attentati dell'Isis e due casi di presunte discriminazioni di copti, i suoi correligionari cristiani d'Egitto. Patrick appena 13 giorni fa, in collegamento dal Cairo, ha discusso la sua tesi di laurea ed è stato proclamato dottore con 110 elode, alla presenza del rettore Giovanni Molari. Sotto processo, non ha potuto partecipare in presenza per concludere il suo percorso di studi del Master Erasmus Mundus Gemma, Women's and Gender Studies all'Università di Bologna. Sognava di poter tornare anche solo poche ore, ma questa opportunità gli è stata negata dalle autorità egiziane. Sto provando una serie complessa di emozioni, aveva detto subito dopo la proclamazione, parlando in inglese, dispiace non essere lì con voi. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.